Una nuova linea ferroviaria tra la Corea del Nord e la Russia è stata inaugurata giovedì dalle autorità di due paesi. Il tratto è lungo 54 km e collega la zona economica di Rajin con Kazan, città di frontiera russa. Dopo anni di sanzioni internazionali, la Corea del Nord potrà così puntare ad aumentare gli scambi commerciali col suo più potente vicino.